Alessandro e Filomena, cantate sempre avanti e mai indietro attenzione, attenzione che sia un curatino, ad esempio attenzione e se no Alessandro potete ballare pure dietro la regia, tanto si sente lo stesso se c'è più spazio lì A presto! 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 potete vedere la ciammaiche che da noi si intende la lumaca sa perrute e si sperrute e ci è pronto, un po' di re e ci è pronto, un po' di re e ci è pronto le femmine allumezze i cavalieri le circondano e si raccontano i cavalieri rulle e le femmine con tre e zicchete e zacchete e zacchete Pizzakhe ecco l'incastro Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.